Bella Italia, un'Italia fa 6 vittorie su 6 e nulla da dire alla nazionale in quanto tale, subito subito i voti Donnarumma 6, prende un gol sul rigore, per il resto non è impegnato, non gli arrivano grossi tiri 6, sufficienza totale Izzo 6, un po' timido, un po' timido nell'intera fase della partita secondo me ha sofferto le indicazioni di Mancini, probabilmente a che sto rimando in difesa è quello che Izzo ha fatto Bonucci 6,5, anche qualcosina in più, devo dire che ha fatto dei salvataggi di posizione notevoli nel primo tempo cioè era al posto giusto, al momento giusto e dopo comunque è stato l'anima della difesa, dobbiamo dire la verità A Cerbi 6,5, una sorpresa, molto meglio di Romagnoli, mi è piaciuto molto di più, è molto più agile, molto più presente 6,5, Emerson senza voto, è uscito subito Florenzi 6,5, Luca l'ha sostituito, 6,5 è duttile, un giocatore molto duttile, può stare a sinistra, può stare a destra ti fa sempre una buona partita, in questo caso addirittura è stata alla sinistra ogni tanto ritornava alla difesa ma veramente poco, era sempre lì in attacco a dare una mano Barella 6, Barella 6 è un mix fra un 5,5 del primo tempo e il 6,5 del secondo tempo ha preso, è come un diesel, ha preso coraggio, ha preso campo e gioco nel secondo tempo perché nel primo tempo aveva sbagliato tantissimi palloni Giorginio 6 e questo è un 6 risicato perché Giorginio è un metodista, non è un incontrista eppure è stato chiesto di fare l'incontrista contro i giocatori della Finlandia non è il suo ruolo, non è assolutamente il suo ruolo lui ha bisogno di stare davanti a un centrocampista, non davanti ai difensori comunque alla fine l'ha portato in porto perché è un giocatore di classe e di personalità Sensi 6,5, era partito a 7,7,5, tutto il primo tempo è stato il centrocampo dell'Italia è stato Sensi, a guardarlo veniva, uno diceva beh, sei non in forma ma in formissima poi il secondo tempo è scalato e chiaramente c'è anche la situazione del rigore che non è a suo favore quindi 6,5, comunque un giocatore sta bene, per adesso sta molto bene Chiesa 6, Chiesa 6 e voglio dare un voto anche di incoraggiamento al giocatore perché già la sua posizione non era delle migliori, nel senso Mancini l'ha messo come alla destra larga non è proprio la posizione di Chiesa, Chiesa deve addentrarsi e non c'era spazio per addentrarsi il resto si è impegnato, è andato molto spesso in difesa, quindi un 6, non mi insento di dare un giudizio negativo Immobile 6,5, non che Immobile mi sia piaciuto, però ha segnato e quando segni se l'attaccante fa il tuo dovere, porta a casa la pagnotta per il resto guarda, in un attacco a 3, l'attaccante centrale deve aprire gli spazi per i suoi compagni deve giocare un po' a fisarmonica, cosa che lui non ha fatto moltissimo oggi Pellegrini 6,5, il primo tempo non mi era piaciuto tantissimo, anche se era vivace il secondo tempo molto molto meglio, ma anche lì Pellegrini gioca in tutt'altra posizione nella Roma era una posizione non sua, simile a quella di Chiesa, ma un po' più centrale perché c'era Florenzi alla sua sinistra, quindi ha avuto più modo di entrare nelle azioni rispetto a Chiesa Dei subentrati, Pernandeschi 6,5 perché ha portato vivacità, Belotti 6 perché abbiamo vinto ma per il resto Belotti ha sbagliato qualche pallone, comunque 6, 6, 6 Mancini, Mancini, adesso ormai siamo quasi qualificati, del 7 Mancini prende questa squadra quando è nelle macerie della squadra una squadra che non era andata in mondiale, adesso è una squadra che ha personalità una squadra che ha prospettiva, una squadra che diverte, si diverte questo è importante e lo seguono, i giocatori lo seguono non è forse anche per ricordare Ventura, comunque Ventura è stato un caso isolato ma Mancini è un allenatore rispettato, si vede, si vede in campo è un allenatore italiano per la nazionale italiana benissimo così, piccola postilla ho sentito, già avevo sentito delle polemiche su questo sulle marcature a zona sui calciodangoli Mancini, per favore, noi siamo da marcatura a uomo sui calciodangoli mai marcatura a zona perché abbiamo rischiato in due o tre occasioni veramente tanto, è che c'era la Finlandia ma se fosse stata qualche squadra un attimino migliore il colletto ce lo possono fare, quindi magari speriamo si ritornerà alla marcatura a uomo detto questo, signori, finita la pausa pesantissima delle nazionali ritornerà ad ottobre, comunque comunque finita questa pausa si ritorna al più presto con le pagelle per Inter, Milan, Juventus se c'è un spazio o qualche altra squadra comunque il campionato, la Serie A, quella che piace a noi quindi iscrivetevi commenti, rispondo sempre oltretutto vi rispondete fra di voi, commentate fra di voi sono contentissimo di questo like se potete e condividete se potete ma soprattutto ragazzi iscrivetevi perché il canale sta crescendo, piace a molti c'è stato un amico, Alex Restelli, che mi ha pure fatto da sponsor ha detto che ho una buona dialettica è un piacere stare tutti insieme a parlare di calcio non importa se siete dell'Inter, Juventus, Milan io sono interista ovviamente però va bene per tutti il calcio è di tutti il calcio è un divertimento nazionale è internazionale vi posso dire stando qui a Londra che a tutti piace il gioco del calcio ragazzi sono veramente sarei veramente contento se vi iscriveste nel frattempo buona settimana che sta per entrare ciao ciao a tutti